Ecco i due bambini, Carlo e Cudiga, che arrivano, stanno giocando alla grande, è uno spettacolo troppo alta, giù che faccio un giro io adesso, è come il triciclo, che marcia sei? Quarta, no ero in terza, scusa cinque marce, adesso è quarta, provo, fai un altro giro Dai dai che ho riuscito a parte Vai Lo so Vai veloce, non pensare che io sto a diritto, quando hai fatto la curva vai Vai, vai ancora Vai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, 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 vai! E' accelerato perché c'è l'arco di dentro. Metti il filtro, metti il filtro perché... Sì, ma adesso va. Metti il filtro perché se non metti il filtro resta accelerata. Non c'è il filtro. Eh, metteglielo pure. Ma non vedi che continua a andare. Devo scorreggiare un pochino. Ecco, lo abbiamo messo tutti i rossi. Lo mettiamo qua, di non partire più qua. Che marcia che dici? Terza. Lo mettiamo qua, Pinto, va lui a prendere. No, va a prenderlo lui. Dai lì. No, ma sono giù tutte le robe. E dopo vai giù. Dopo vai giù. Dopo andiamo a prenderlo. Perché? Non spegnalo, vai a prenderlo. Non spegnalo, sì. No, ma anche se lo spegne adesso va. Adesso va, basta. Sì, è buco, l'hai fatto il filtro giù lì? No, non c'era. E non c'ero. E' ancora a casa. Adesso il filtro giù.